Continua la raffica di furti nel Vallo di Liano, nel mirino abitazioni, in cui i malviventi entrano in pieno giorno incuranti di chi possa trovarvisi dentro, agiscono senza distinzione tra zone periferiche e centri storici. La gente è molto preoccupata, c'è chi vive nel terrore, un clima comprensibile. Il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha scritto al prefetto di Salerno, Francesco Russo, una nota proprio inerente al preoccupante fenomeno dei furti in abitazioni che nelle ultime settimane sta interessando anche il comune di Sassano, oltre che gli altri centri valdianesi. Il primo cittadino chiede il potenziamento dei controlli sul territorio e la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per definire un piano di interventi. Sottolinea che i furti sono aumentati a dismisura, basti pensare che a Sassano in un solo giorno si sono registrati quattro episodi in diverse zone del Paese. Condividendo a pieno le preoccupazioni e le ansie dei propri cittadini, sottolinea che l'esiguo numero di forze dell'Ordine non riesce purtroppo a soddisfare la richiesta di implementare i servizi di controllo malgrado il costante impegno con il presidio del territorio 24 ore su 24 da parte delle forze di polizia. Oltre ad aver scritto al prefetto, il sindaco di Sassano fa sapere di aver incontrato personalmente i vertici locali di carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, per condividere i propri timori su tale escalation di eventi criminosi facendosi anche portavoce dei propri concittadini. E chiarisce poi la questione relativa al sistema di videosorveglianza che insiste sul territorio comunale, precisa che le telecamere non sono in funzione da ben sei anni, ovvero da quattro anni prima dell'insediamento dell'Aggiunta Rubino. Alla luce di ciò, dice, è alquanto strumentale da parte di quanti imputano all'Aggiunta Rubino colpe che casomai sarebbero da debitare proprio a coloro che siedono oggi tra i banchi del Consiglio Comunale in rappresentanza del gruppo di opposizione che ha governato fino a due anni fa.